Richiesta di cauzione per liberare un figlio, finte fughe di gas per far uscire le persone di casa, sedicenti dipendenti del comune o altri enti, finti poliziotti o postini. Sono solo alcune delle tecniche utilizzate per cercare di truffare le persone più fragili, approfittando della loro buona fede. Per questo a Lecce le forze dell'ordine sono impegnate in momenti di sensibilizzazione per spiegare ai cittadini alcuni accorgimenti utili per difendersi da questi raggiri. E nella parrocchia di San Sabino si è tenuto un nuovo incontro con gli agenti della polizia locale con la campagna Siate Accorti, finanziata dal Ministero dell'Interno. Il problema maggiore è l'abilità di queste persone. Ovviamente si presentano in modo gentile, sono delle persone eleganti, composte, a modo che spesso hanno anche delle notizie delle loro vittime, per cui possono fare riferimento ai figli, alla famiglia, ai medici curanti. Noi chiederemo soprattutto questo, di temporeggiare, di dire che si stanno rivolgendo a qualcuno, che stanno chiedendo ai figli, perché questo fa desistere il truffatore. Importante inoltre denunciare senza sentirsi in colpa per quanto subito, oppure parlarne con i propri familiari. Non bisogna assolutamente avere vergogna di essere stati vittima di una truffa o di una tentata truffa. Può capitare a chiunque, l'importante anzi è comunicarlo proprio per prevenire altri tipi, perché poi molto spesso sono delle truffe reiterate, per cui nel momento in cui noi abbiamo già notizia di un qualcosa, possiamo anche allertare le altre persone. L'ha ritenuto utile questo momento? Molto, perché anche se sono cose che sappiamo, però sentircele dire fa bene, serve. È utile, molto utile per le persone sole, anziane. Grazie a tutti.